Non perdetevi questa sera alle 21 su www.ontvweb.it, l'intervista che abbiamo realizzato con Davide Nicelli, pilota pavese di 28 anni, figlio d'arte, infatti già su Papa Guglielmo correva, era nel mondo dei rally, vincitore nel 2021 del Cleotrofi Italia e nel 2022 è arrivato il secondo nel campionato italiano junior, si è presentato nella stagione 2023, sempre all'interno del campionato italiano e nell'ultima parte della stagione ha preso il via nel Toyota GR di Aris Cup. Mi raccomando, non mancate!